buongiorno oggi siamo pronti con questa bellissima maglietta fai un po vedere allarga le braccia da che cos'è questa maglietta e ora siamo qua pronti con tutta una sfilza di trucchi per truccarci quindi vi faremo vedere il risultato eccoci qua io direi che il mio zombie è venuto bellissimissimo facci un po vedere come entrerai all'asilo dai bellissimo e ora un caffettino al volo e poi al lavoro eccoci qua pronti per andare a mettere le nostre decorazioni di halloween abbiamo riciclato quelle dell'anno scorso le appoggio qua anche se in realtà c'è già il tavolo pronto abbiamo la zucca il frankenstein e la mummia poi abbiamo i ragnetti ora andiamo ad attaccare tutto poi vi facciamo vedere ecco qua sulla nostra porta abbiamo attaccato questi e poi invece fuori dalla porta dove luca fa lo sciocco abbiamo messo i nostri barattoli decorativi con le candeline è già accese e direi molto carino perfetto ecco qua abbiamo aggiunto anche i fantasmini uno qui e un altro qui andiamo dentro o ti lascio lì fuori al buio con le tue zucchette dai che fa freddo vieni in casa forza allora luca ci spiega bene come dover mangiare questo suo sandwich di uova strapazzate si taglia poi si mette sopra la forchetta giusto poi 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 luca ci mancia tutto il sandwich di uova strapazzate pancetta e sottiletta ce lo fai rivedere come si fa prima metti in uova e poi metti la pancetta poi la sottiletta ok ok adesso dai facci rivedere di nuovo il procedimento beh si taglia la forchetta e mi ammi buono